Anche tu sei alla ricerca dell'anima gemella? Vai su Datebook, il nuovo portale di incontri fatto su misura per te. E assicuro che troverai quello che cerchi. Io trovo sempre quello che cerco. E oggi cerco Chiara. Chiara De Stefano, studentessa di lettere classiche a tempo di tempo. Devo solo trovare un'esca. Sono attratta da tutto ciò che stuzzica la mia curiosità. Situazioni nuove, luoghi mai visti. Il proprio momento magico. Amo le canzoni di Roby, Roby, Roby. Trovata. Vorrei dedicare il tuo sorriso a una canzone alla radio. Preferisci ninja o she's the one? Una quando mi svelo, l'altra quando mi do. E ora si comincia. Grazie per l'amicizia, principessa. Principessa, non avrai più segreti per me. Cosa fai? Dove vai? Chi ti piace? Che scema che sei davvero. Trenta, elone. Cosa ti appassiona, principessa? L'essenziale invisibile agli occhi. Sei piccola, romantica, ingenua. Sei perfetta. E ora provo a catturarti. Se potessi catturare una cometa, dove ti faresti portare. Ma anche tu ami piccolo principale. In fondo anch'io sono dolce e indifeso. Daniel ha deciso di mostrare, non come gli altri mi vogliono, ma come veramente sono che te hanno. Puoi fidarti di me. Mi dispiace tanto per te, ma non tutte le ragazze ragionano così. Ecco di... Sei incredibile. Più vicina. Tu eri nascosta per tutto questo tempo. Ancora più vicina. Sai questa qua? Vuoi vedere il bel tronco di Milano? Stasera l'auto è giocato nel castello. Ok? Ci vediamo lì. Presa. Social Killer. Un romanzo di Vito Di Bari. Solo sul tuo cellulare. Cercalo su www.datebook.it